Per la rubrica Tavola con TV7 la nostra redazione vi segnala anche il gruppo aperto di Facebook Le Torte di Stefi. Tanti dolci delizie per colazione, merenda e fine pasto cucinate con le mani in pasta da Stefania Bonandi. Cimentatevi anche voi in torte, biscotti, muffin, brioche e con tutti i tipi di panificati per addolcire le vostre giornate in casa. Richiedete l'iscrizione al gruppo Facebook Le Torte di Stefi ed ogni giorno a casa vi sembrerà più dolce. A tavola con TV7. I vostri contenuti saranno trasmessi in tv, pubblicati sul sito e sulle pagine social Facebook ed Instagram. Inviate foto e video ai seguenti indirizzi infochiocciolatv7.net, messenger della nostra pagina Facebook TV7 Benevento oppure al numero WhatsApp 328 13 47 482. Cucina con TV7 e tutti a tavola assieme.